ciao ragazzi sono riccardo bentornati nel mio canale youtube questa è la termocamera che mi ha inviato il sito banggood che mi avete visto condividere anche nel gruppo telegram che vi lascerò giù nel primo commento nella descrizione il gruppo nel quale condivido tutte le offerte che trovo su web che sia amazon banggood insomma diversi siti vi lascerò tutti i link in quel canale telegram per poter captare a volo tutte le varie offerte questa è la termocamera punto ma sul modello e t6 92 di con una risoluzione di 320 x 240 quindi già una risoluzione maggiore rispetto a quelle che vi ho già fatto conoscere finora anche il prezzo effettivamente un po maggiore rispetto a quelle che vi ho fatto conoscere finora non è carissima se dovete utilizzarlo per lavoro insomma va bene perché comunque costa circa 300 euro di preciso non ricordo ma vi lascerò una schermata qua così potete vedere il prezzo attuale poi potrete vedere anche il prezzo scontato quando pubblicherò il video perché nel primo commento vi lascerò il link con il codice di sconto questa termocamera può essere utile per diversi scopi all'interno del laboratorio per tenere sotto controllo dei nostri strumenti carica batterie vedere dove sul riscaldano di più se sul riscaldano troppo eccetera nella meccanica per esempio chi ha un'officina potere sotto controllo alcuni componenti del motore in idraulica tantissime volte si usa per trovare pettite d'acqua eccetera infiltrazioni ma anche in casa si può utilizzare per vedere ci sono i punti più freddi dispersione eccetera quindi dove si può creare muffa oppure per i termosifoni per vedere gli elementi che si riscaldano di più o di meno ma si può utilizzare anche nella ricerca per esempio di proditori eccetera se sia il dubbio che ci siano nascosti da qualche parte o altri animali che possono invadere delle zone basta inquadrare insomma verranno captati si vedono il display e abbiamo la possibilità di variare anche la gamma dei colori per riuscire a vederli ancora meglio ma adesso volevo provvedere adesso nella recensione quindi mettiamola sul bancone vediamo quello che viene dato in dotazione vediamo come è fatta come si utilizza e poi se vi serve se ritenete che possa essere utile per voi date un'occhiata cliccate sul link eventualmente acquistata ora iniziamo e allora innanzitutto questa è la scatola con cui mi è stata inviata non so se a voi arriverà pure con questa scatola così anonima senza illustrazioni oppure arriverà con una scatola diversa perché a me a volte arrivano direttamente dalla fabbrica comunque apriamo la confezione all'interno troviamo un manuale di istruzione una guida rapida per poterla collegare al computer qua troviamo degli accessori quindi un caricabatterie una cordigella per poterla collegare a questa fondina e poi un cavo usb per poterla ricaricare poterla collegare al computer allora si apre in questo modo all'interno troviamo quindi la nostra termocamera che ha questa copertura nella parte frontale questa è gomma una gomma dura che comunque ammortizza eventualmente gli urti e questa è l'impugnatura fatto dello stesso materiale con queste zigrinature in teoria antiscivolo tastino per poter scattare le fotografie oppure registrare i video e anche qua abbiamo queste zigrinature e nella stessa impugnatura troviamo anche l'alloggiamento per la batteria si fa scorrere in questo modo e troviamo una classica batteria 18.650 3,7 volt ovviamente da ben 2000 milliamper ora la copertura dell'obiettivo è ribaltabile e qua abbiamo il collegamento per il cavo usb sia per il trasferimento dei dati che per il caricamento della batteria ovviamente possiamo alimentarla e ricaricarla con qualunque cavo micro usb e sul display comparirà un animazione con raffigurata la batteria che si va ricaricando quindi in questo caso abbiamo una batteria carica circa poco più della metà comunque accendiamola premendo il tastino comparirà un'immagine con delle fotografie scattate appunto con la fotocamera termica su un motore dopodiché comparirà direttamente l'immagine che viene acquisita dal nostro obiettivo ok quindi dopo qualche secondo compare quello che la nostra termocamera inquadra mettiamo qualcosa che possa fare da riferimento per prendere le temperature quindi questo caricabatterie e come vediamo abbiamo direttamente già le temperature sia la più alta che la più bassa allora vi faccio vedere quello che compare sul display e poi vi vado spiegando tutte le varie caratteristiche in basso sulla sinistra abbiamo la temperatura massima che sta rilevando e la temperatura minima quindi 29 8 22 e 2 sono le due temperature più alte e più basse e qua in alto abbiamo la temperatura che indica lo spot che è sempre centrale è un'altra caratteristica interessante che il numero dello spot cambia colore in base al contrasto quindi in questo caso abbiamo uno sfondo scuro e il numero è bianco mentre se io mi sposto da questa parte cambia e diventa di colore nero ecco sul bianco col bianco non lo leggeremo in questo caso abbiamo il colore nero che ci permette di leggerlo ancora meglio quindi è anche studiata bene adesso diamo un'occhiata anche al menu quindi clicchiamo sul tastino specifico e si aprirà questo menu a tendine abbiamo la possibilità di regolare l'immagine di coincidenza cosa è allora in questo caso noi stiamo vedendo solamente questa gamma cromatica però in realtà avendo due obiettivi che sono posizionati in modo differente questo inquadrerà in questo modo questo inquadrerà in quest'altro modo quindi se io metto un dito al centro non verrà allineato allo stesso modo se stiamo inquadrando da lontano si noterà molto di meno ma se stiamo inquadrando e vicino dobbiamo andare a correggere quindi premendo questo tastino sulla destra rilasciandolo avremo questa trasparenza quindi vedremo solo ed esclusivamente l'immagine reale in quest'altro modo invece vedremo sovrapposti facendo la prova da lontano queste perfettamente allineato ma in questo modo se essendo vicino abbiamo bisogno di correggere quindi ritorniamo sul meno andiamo su immagine di coincidenza cliccando su ok e a questo punto dobbiamo spostarla dobbiamo abbassare e spostare leggermente verso sinistra ok in questo caso combacia perfettamente ad ogni pressione poi potremo aumentare oppure diminuire la trasparenza è la stessa cosa col tastino verso sinistra così schieriremo e così scuriremo ma guardiamolo tutto il tempo adesso in questo modo quindi eliminiamo la trasparenza guardiamolo direttamente con la gamma cromatica è possibile anche cambiare quindi andando su gamma dei colori in base a quello che dobbiamo fare per esempio per intercettare animali eccetera o anche in esterno per esempio sui palazzi per vedere dove c'è dispersione termica è meglio utilizzare il bianco e il nero così riusciamo a vedere molto meglio vedete riusciamo a vedere meglio i cavi elettrici eccetera ma non solo perché in base al materiale bisogna cambiare anche all'emissività o emittività io dico sempre emissività però a volte mi capita di dire anche emittività comunque abbiamo anche la possibilità di scegliere la modalità freddo oppure possiamo scegliere la modalità con il colore invertito rispetto a quello che vi ho fatto vedere poco fa il nero come punto più freddo e il bianco come un punto più caldo oppure in questo caso il nero come appunto più caldo e il bianco come punto più freddo i primi due sono praticamente quasi uguali solo che uno si chiama ferro riusciamo a vedere molto meglio tutto ciò che metallico quindi per esempio in questo caso se appunto sulle chiavi inglesi hanno una prevalenza rispetto al resto ora ve lo farò vedere un pochettino meglio adesso però facciamo un paio di scatti quindi fotografiamo queste chiavi inglesi in questo modo memorizzare foto con questo tastino diremo di sì e con questo diremo di no perché sono sotto ai vari comandi quindi diciamogli di sì e per registrare il video dovremmo mantenere premuto il tastino quindi dopo qualche secondo mi chiede registrare il video si comparirà anche il timer che mi indica quanto tempo sta durante il video e per poter interrompere la registrazione dovrà ottenere nuovamente premuto il tastino per qualche secondo circa 2 ok quindi abbiamo fatto 11 secondi di video non viene registrato ovviamente l'audio e viene salvato nella memoria che di 3 giga e quindi permette di salvare migliaia migliaia di foto è una buona quantità di video come vedete tutto ciò che è metallico a questa colorazione un pochettino più vivace ok quindi in base a quello che dovete fare dovete andare a cambiare questo settaggio però per il metallo è necessario cambiare anche l'emittività o emissività e si fa in questo modo andando su questa voce del menu abbiamo la possibilità di scegliere semplicemente con delle impostazioni rapide quindi per materiali opachi oppure semi opachi semi lucidi lucido oppure personalizzato conviene sempre scaricare una tabella nelle quali è riportata l'emistività dei vari materiali e modificarlo perché puntandolo su una superficie metallica con un'emissività diversa da quella necessaria avrò una temperatura completamente differente quindi conviene sempre andare su personalizzato e andare a modificare ma per adesso lasciamolo comunque così su 95 che diciamo che si presta per il 90 per cento delle varie superfici che si possono analizzare con la termocamera sempre navigando all'interno del menu abbiamo la possibilità di vedere le varie immagini quindi tutte le foto che sono state scattate ecco questo è l'esterno di un palazzo questo è un nido non si vede benissimo questo esterno di un altro palazzo poi vedete la differenza dell'esterno del palazzo utilizzando i colori oppure utilizzando la gamma con il bianco e nero in questo modo riusciamo a capire molto meglio dove abbiamo la temperatura più alta dove abbiamo la temperatura più bassa andiamo ancora verso destra questo è lo scarico di una macchina questo è il motore ho fatto anche dei video questo è il vano motore acceso quindi quello che avete visto poco fa fotografato e adesso vi faccio vedere che spostando la termocamera ecco vedete si va adattando mettendo in risalto i punti più caldi di maggiore interesse ma se necessario spostando leggermente la termocamera ci darà una panoramica come vedete in questo caso indicandoci anche le altre temperature quindi si adatta molto velocemente rispetto a tante altre termocamere qua ci dice che la zona più calda ma avvicinandoci ci dà il dettaglio di quale sia la zona effettivamente più calda questo per esempio è una pentola anzi una padella scusatemi e si vede la differenza di temperatura fra questa che è spenta quindi un piano cottura induzione e questa invece che ha il fuoco tra virgolette acceso e si vedono le pietanze all'interno che ancora non hanno raggiunto la temperatura quindi andiamo ancora avanti ok questa per esempio la mia bassotta guardate come si vede se inquadrata con con questa gamma cromatica ci fa risaltare in questo caso i punti più freddi e punti più caldi l'ultima voce di questo menù invece riguarda le varie impostazioni quindi andiamo verso destra abbiamo la possibilità di regolare l'auto spegnimento oppure l'intensità luminosa si può decidere di averla su tre impostazioni differenti sembra una banalità però quando si sta lavorando al buio avere questa luminosità così forte a volte risulta abbagliante ma abbiamo anche la possibilità di cambiare lingua per fortuna c'è anche l'italiano la possibilità di cambiare l'unità di misura per i gradi quest'icona sta a indicare le impostazioni dell'orologio quindi se impostarlo 24 ore oppure avere anti meridiane post meridiane e qua possiamo impostare data ora eccetera e lo spot invece ci dà la possibilità di accendere e spegnere questo puntino che io vi consiglio di lasciare acceso l'ultimo comando invece ci dà la versione firmware perché il dispositivo può anche essere aggiornato ora però guardiamo le varie immagini scaricandole sul computer all'interno della memoria della nostra termocamera troverete un file quindi zippato compresso e all'interno c'è questo programma ieri image tools collego la termocamera al computer ok come vedete quindi si è aperta la cartella con i file di cui vi parlavo e abbiamo la possibilità di vedere direttamente le immagini all'interno delle varie cartelle quindi possiamo visualizzare tutte le varie ente prime è la stessa cosa per quanto riguarda i video abbiamo la possibilità quindi di salvarli scaricati eccetera la stessa cosa possiamo farla ovviamente dal programma specifico quindi open file andiamo su image perché per quanto riguarda i video non ci dà la possibilità di fare nulla invece per quanto riguarda le immagini apriamone qualcuna guardiamo per esempio questa casa e come vedete in questo modo abbiamo semplicemente la fotografia quindi quello che abbiamo visto quando ho scattato la foto però se voglio tramite questo comando quindi spot possa andare a vedere la temperatura che avevo da questa parte la temperatura che c'è qua la temperatura di qua e così via quindi analizzare tutti i vari punti per vedere quello che mi va interessando insomma in base al tipo di conoscenza che voglio avere abbiamo possibilità anche di cambiare il tipo di immagine quindi in questo caso iron sarebbe quasi impossibile da interpretare semplicemente guardando le immagini cool riusciamo a vederlo un po meglio però se utilizziamo come dicevo poco fa la modalità col bianco oppure con il nero abbiamo una visione ancora migliore anche se in questo caso il contrasto con la ripresa non aiuta ma abbiamo qualche altra immagine quindi per esempio questa qua vediamo con questa gamma quindi spectra però da questa parte guardiamo effettivamente quella che ho utilizzato io possiamo vederla quindi infatti nello stesso modo oppure invertendo lo stesso tipo di immagine come dicevo con le parti fredde più scure andando sempre cliccare posso vedere per esempio le varie temperature nei vari punti possiamo anche cambiare il tipo di unità di misura e qua possiamo anche cambiare il tipo infusione quindi la combinazione di immagini vederlo semplicemente a colori oppure vederlo in questo modo poi abbiamo altri possibilità altri comandi quindi vedere la differenza fra un punto e un altro in questo modo possiamo selezionare una zona e vedere la temperatura media di quella zona questo mi dà la possibilità di creare quindi selezionare piacere e con questo vado annullando quindi quindi se io prima ho fatto una selezione di questa finestra in questo modo voglio integrare anche il tubo così avrò la temperatura più alta la temperatura più bassa all'interno di questa selezione però se voglio fare una selezione escludendo le altre parti posso farlo altrimenti se io avessi utilizzato un rettangolo avrei preso anche una parte del muro e quindi avrebbe falsato un pochettino la misurazione se avesse avuto le stesse possibilità anche con i video sarebbe stato il massimo poi alla fine possiamo anche salvare è una volta salvata l'immagine si verrà nient'altro che una sorta di screenshot modo avere delle informazioni più dettagliate se pensate che questo tipo di termocamera possa esservi utile allora procedete con l'acquisto cliccando giù nel primo commento nella descrizione e ricordandovi di utilizzare anche il codice di sconto detto questo non mi rimane che ringraziarvi di avere visto questo video fino in fondo vi invito anche a cliccare sulla campanella cliccate sul pollice nell'insù e ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti ciao da riccardo ea presto